del portavoce della Santa Sede, eppure non credo che possano rassicurare le centinaia di milioni di fedeli. Potremmo affermare che si tratti di un evento inaspettato, no? Sapete che io venivo sempre qua a cena con Salvo Randone? Non so se dice qualcosa. Certo, era quello che con Gasman recitava una sera a Otello e la sera dopo Iaro. Scompiavano le parti. Oggi bisogna soltanto avere pazienza. Sì, ma lei si è fatto una sua opinione su quello che potrebbe essere successo? Guardi, io non credo a quelli che dicono che dietro tutto questo ci sia un mistero. Cercare una serenità nel silenzio, prima di donarsi al mondo in attesa, rientra nelle facoltà del pontefice. No, no, ma non sono sciocchezze. Il vino e il tabacco privano della personalità. Lei non è più... Amare senza speranza. Interi anni ad aspettare sempre qualcosa. Ieri sera verso Charlie, sono andata nel giardino a vedere se fosse ancora intatto il nostro teatro. E verrà ancora lì. Il giardino è buio. È un mutamento. Mi sono messa a piangere per la prima volta. Bisognerebbe demolirlo, quel teatro nel giardino. E ho avuto un conforto. Sta lì, nudo. L'anima si fa come una terza persona. Dopo un buon sigaro o un bicchierino di vodka. Ricordiamoci che il Papa è il primo servo del Signore, ma è anche l'ultimo. Primo, ma anche l'ultimo. Quindi il primo e anche l'ultimo. E questo ci porta di conseguenza? Di conseguenza... Questo ci porta... Adesso... Ci porta... Ci porta? Ci porta? No, sto improvvisando. Ah. La verità è che non ci capisco più niente. Chiedo perdono ai vostri telespettatori. Chiedo perdono a tutti. Mi scusi? No, niente. Ricordo che formalmente il conclave non si è ancora concluso. Quindi i cardinali sono ancora riuniti, isolati e lontani dalle curiosità dei media. Europa sono...